Moda, Casual e Sport hanno un solo nome, Sportissimo Bloisy. Entra in un vastissimo showroom e fatti coinvolgere dallo spirito di libertà. Libertà di scegliere tra migliaia di proposte autentiche, reali e contemporanee, con lezioni vivaci e alla moda, in perfetto equilibrio tra estetica, praticità e comfort e che sottolineano un look deciso ed elegante, esigenze e gusti diversi per uomo, donna e bambino. Vieni a scoprire tutte le novità primavera-estate 2013. Sportissimo Bloisy è in via nazionale a Padula Scalo. Telefono 0975 74 379